Ciao Juan Carlos, il produttore delle Nessis. Stiamo provando delle canzoni, ti chiamo più tardi. In che tonalità sto cantando ora? Non lo so. Dipende soprattutto della canzone. In questo caso è in sì. Oh? Quello che dici tu. Qualcosa da unire alle canzoni di Kylie. Qualcosa dei dog show. Esatto, come ad esempio Two Hearts, che è una canzone di Kylie Minogue. E questo? È il giusto stile. Quello di Larue mi piace. Sì, ha un bel ritmo. Larue con Ignorais di Kylie. Sì. Grazie. Premine una, così prendiamo. No, no, no. Io lo bevo. Io lavoro bene lo stesso. Qui. Qui? Sì, qui. Cerca qualcosa di particolare o un body, una camicia? Beh, un body forse, però deve essere un body per un neonato. Per un neonato? Abbiamo la taglia per questo, per esempio. Ah. Ti piace? Sì, è molto carino. Carini, metiamo i frutti. È un po' mal doblato, no? Oh, la calcetta. Bimbo o bimba? Bimbo. Bimbo, pan rico, joder. Bimbo. Sì. Mételo in le calcette rosa. Guardate come è bello questo. Quello che vi vi ho avuto proprio ieri. Però maschio. Buon'le sono cin Saliri. Sono totali. Perciò. Buoh. Com'è...